Non è stato semplice, ci dice Don Piergiorgio Sanchioni, parroco di Tavernelle e Serungarina. C'erano diverse proposte su quale dovesse essere il santo che rappresentasse la nuova comunità di Colli al Metauro. Il vescovo Armando Trasarti ha dato mandato ai quattro parroci della zona di individuare un santo, vista anche la valenza civile della ricorrenza, per il giorno di festa da attribuire al nuovo comune. Assieme al vicario i sacerdoti hanno valutato una figura di santo che avesse un addentellato con il territorio, come San Francesco, o che fosse riconosciuto universalmente da tutti i giovani. E così, considerato che il 5 settembre prossimo, fa un anno dalla sua proclamazione, la scelta è ricaduta su Madre Teresa di Calcutta. Io sono personalmente molto contento di questa scelta perché per l'umiltà di questa donna, per la capacità davvero di aver mosso, prebio Nobel per la pace, di aver mosso il mondo, per tutta la sua capacità anche di dare, di donare e la sua fede profonda. Le sue suore ogni giorno fanno ore di preghiera, proprio prima di andare ad adorare, dice lei, i poveri, i malati, i lebrosi che sono per le strade di Calcutta. La scelta di calcutta oggi è la scelta di inocente.